Il Presidente e il CEO di Automobili Lamborghini, Stefano Wickelmann. Signore e signori, buongiorno e benvenuti alla Lamborghini. Il Gagliardo è il nostro modello più successivo, abbiamo ricevuto circa 30.000 cari di questo modello. E per dare un'idea, il numero 2 è in la storia di Lamborghini, il Musieraco, con 4,099 cari. E oggi, qui nel Paris Motor Show, abbiamo l'opportunità di mostrare il nuovo Gagliardo LP560-4. Grazie a tutti. Sì, sì. 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 Sì.